Silenzio interiore Cerchio medianico K attraverso Marco a cura di VB Caio Mario Vittorino La mia gioia discende dal fatto che posso parlare agli uomini. O fratelli, vi esorto a creare quel silenzio interiore che è cagione di grandezza nel vostro mondo e in quelli più sottili. Quel silenzio interiore che è cagione di mitezza e pace. Quel silenzio interiore attraverso al quale è stata creata tanta arte dall'uomo. E quel silenzio interiore che può permettervi di affinare le vostre facoltà spirituali al fine altissimo, di permettere più velocemente a voi il risveglio della coscienza, la libertà. Quel silenzio interiore in cui sono nate tutte le rivelazioni sapienziali che hanno dato vita alle organizzazioni religiose che hanno, di era in era, portato l'umanità attraverso a molti secoli verso quell'ideale morale cui oggi è chiamata. Non può avvenire la liberazione nel clamore. Essa avviene solo e sempre in questo silenzio interiore. Perciò vi dico non perdete mai quel poco di misticismo che è in ognuno di voi. La vita stessa è un atto mistico. Essa stessa è un dono e quindi non è da vedere come un qualcosa di acquisibile conoscibile o peggio dovuto a voi ma soltanto di adorabile quale dono meraviglioso del nostro creatore. Disponetevi dunque a questo silenzio interiore a ciò che avvenga più facilmente con meno dolore per voi quel passaggio dalla consapevolezza alla coscienza dall'io al non io dal divenire all'essere dai mondi alla legge dalla legge al principio